ragazzi questo è il bolider 4x4 la data di bomba oggi è in auto noleggio devo darci una più piccola invece c'è andato una bomba a parte va anche troppo veloce quindi non te ne credo molto piano è una seat leon tanto lady è dentro la dalla signora a sentire un po questo è un po il pezzo vi faccio un pezzettino di dove siamo ora siamo quasi arrivati all'arena beach carino però vedete tutte le persone in giro tranquille famiglie fidanzati ecco la che esce quindi? ecco l'altra via immaginavo come diceva lei eh quindi dovevamo andare più avanti ancora ok andiamo allora andiamo? sì andiamo grazie a tutti